Non ne vogliamo neanche parlare? No. Per niente? A che servirebbe? Tanto qualunque cosa io dica, voi due tornate sempre qua. Mi scusi, sarebbe possibile sapere i risultati della seconda corsa a Santa Anita. Ho scommesso una tris secca. Una che? Una tris secca, quando si scommette sui primi tre nell'esatto ordine d'arrivo. Non ci posso credere, noi dobbiamo andare al matrimonio e non ci riusciamo. E tutto quello a cui riesce a pensare sono i cavalli. Lo so io chi ha vinto. Davvero? Sì, io ho vinto. Voi siete la mia tris secca. Gli stessi due uomini sono stati arrestati tre volte per tre crimini diversi. E tutte tra le volte dai miei uomini. A quanto darebbero la possibilità che questo succeda in una stazione di polizia? Più o meno dodici milioni a uno. E a quanto darebbero invece la possibilità che succeda nell'ufficio dello sceriffo di una cittadina chiamata Santa Menendez in California? Miliardi, nessuna liberatore accetterebbe. Oscar, di tutte le divergenze che abbiamo avuto, di tutti i litigi che abbiamo avuto, di tutte le stupide discussioni che abbiamo avuto... Non possiamo continuare a parlare quando fa così né almeno per mezz'ora. Di tutte le volte che ho desiderato prenderti per il collo, questa è la peggiore. Se dici trissecca ancora una sola volta, io ti strozzerò finché non sarai morto. Così quell'uomo potrà arrestarmi per l'ennesima volta, per l'ennesimo crimine, l'ennesima volta nel suo ufficio e per lui sarà una quadrissecca. Quindi sta zitto e va a fagculo, hai capito? Credo che ci sia una quadrissecca a Cuba, ma è un sigalo. Ma che fa? Si sieda! No, lasci andare! Si sieda! Via, calma! Basta!